Conclusa la prima fase del progetto Lavoro Sicuro, parte il secondo step, che si concluderà nel 2019 e sarà caratterizzato da controlli più raffinati, puntando anche sulla formazione professionale, l'utilizzo di sostanze tossiche e l'impiego dei muletti. In due anni e mezzo di attività sono state controllate 8.000 aziende, nell'area Prato, Pistoia, Empoli e Firenze. A Prato sono 4.307. 3.098 le confezioni, 1.300 le aziende di pelletterie, 1.084 il pronto moda, 704 quelle dedicate al commercio, 253 all'abbigliamento e 208 all'alimentare. Si riscontra un trend positivo, ha spiegato Renzo Berti, direttore del Dipartimento di Prevenzione USL Centro Toscana, che è confortante ma non ancora sufficiente per terminare il progetto. Vigia ancora l'idea che ci si mette in regola dopo che sono stati fatti i controlli, non prima. Intanto 2.804 imprese sono risultate in regola, 3.425 si sono adeguate successivamente, il 10% al momento dell'arrivo degli ispettori non sono più attive e il rimanente 11% sono recidive. Dai controlli pratesi è anche emerso che le maggiori irregolarità riguardano le condizioni igienico-sanitarie, seguite da quelle per macchinari e impianti elettrici non a norma, i dormitori abusivi trovati sono invece 771, a seguire le cucine non a norma e le bombole a gas irregolare. Gli interventi fatti soltanto dagli ispettori sono stati 800, con le interforze 3.444 e con i mediatori 4.113. Con oggi si entra nella nuova fase, che vedrà sempre coinvolti i 76 ispettori. A settembre 2018 sarà indetto il concorso per le assunzioni, il cui contratto è stato però prorogato al 30 giugno 2018. Tra gli obiettivi il controllo di 5.500 aziende.